Risale la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore il tasso di positività passa dal 2 al 2,7%, con 4.743 contagi e 7 decessi su 176.000 tamponi. Per bloccare il Covid è essenziale vaccinare i giovani, avverte Figliuolo, con il 55% dei vaccinati over 12, il generale è vicino al traguardo annunciato del 60% entro luglio. Per il presidente dell'ISS Brusaferro i vaccini sono efficaci anche sulla variante Delta.